Non passare all'azione, diventa nevrotico, diventa improduttivo, ci rema contro e va a minare, va a ostacolare la nostra realizzazione personale e professionale. Per questo dobbiamo fare una distinzione. Una volta che ho queste distinzioni, entri in gioco la terza distinzione. La terza distinzione, dicevo prima, è tra di... Leggo un'altra risposta alla mia domanda. Qual è il problema numero uno che stai avendo nel portare cambiamenti positivi nella tua vita, nel realizzare te stesso o te stessa pienamente nella vita e nel lavoro? E poi dopo la risposta a questa domanda facciamo qualche considerazione a voce alta. La risposta è il problema numero uno penso sia non avere le idee chiare su cosa voglio, i miei valori e poi di conseguenza la paura di agire, di muovermi, la procrastinazione, eccetera, eccetera. La prima considerazione è che mi dispiace molto. Qui non devo neanche usare l'empatia che è immaginare lo stato d'animo di altre persone perché ci sono passato. Per primo viene da dire, ne parlavo negli ultimi due giorni, abbiamo fatto un bellissimo workshop con gli studenti avanzati e parlavo del fatto che fino a 44 anni come i gatti ho vissuto nella totale inconsapevolezza. Io non sapevo neanche l'esistenza, insomma, di questi valori, di questi bisogni, delle passioni. Poi dopo una volta che ho capito che cosa si intendesse con queste parole, ho capito che stavo vivendo una vita non allineata con i miei bisogni, valori e passioni. E anche lì il risultato era lo stesso. Cioè quando noi ci allontaniamo dai nostri bisogni, ci allontaniamo dai nostri valori, ci allontaniamo dalle nostre passioni, non siamo pienamente realizzati, non siamo pienamente soddisfatti. La qualità della nostra vita ne risente. E quindi viene da dire, prima cosa, mi dispiace questa persona e la capisco. Ora, anche qui mi gioco il mantra che utilizzo spesso con gli studenti di Coltivo della Chiesita, che è la confusione affusca la ragione, ci fa fare cose stupide e ci fa soffrire. E in questo caso come possiamo ridurre questa confusione facendo delle distinzioni. E la distinzione è tra paure produttive, paure adattive, se usiamo una parolaccia, tra procrastinazione produttiva, e sì, la procrastinazione può essere produttiva, procrastinazione adattiva e paure improduttive, che chiaramente si chiamano nevrotiche, quindi le paure che vengono dall'egno infantile, paure disadattive, paure che ci remono contro, che remono contro la nostra realizzazione personale e professionale. Anche qui distinzione con procrastinazione improduttiva e procrastinazione disadattiva. E la terza distinzione è tra decisioni e cambiamenti piccoli e grandi. Quindi il primo passaggio è questo, che per avere una vita piena, una elevata qualità della vita, è indispensabile mettere a fuoco i propri bisogni, valori e passioni, e poi agire per soddisfare al meglio questi bisogni, valori e passioni, vivere una vita allineata, questo è un termine che utilizzo spesso, coerente con questi bisogni, valori e passioni. Perché? Perché quando questo non accade, le nostre energie, le nostre emozioni ne risentono, le nostre energie ne risentono perché tendiamo ad avere un livello energetico più basso, le nostre emozioni ne risentono perché tendiamo ad avere emozioni che virano in direzione dell'abbacchiamento, della frustrazione, dell'insoddisfazione. Poi oltre il danno c'è la beffa, tendenzialmente la nostra mente egoica non vuole soffrire e quindi troviamo dei meccanismi di compensazione, di anestesia per non sentire questo disagio esistenziale. Dopo le strategie sono quelle di ricorrere ai cinque sensi, quindi l'anestesia tramite i cinque sensi. Faccio spesso l'esempio del sottoscritto, appunto, prima per diversi anni, fino ai 44 anni come i gatti, come scherzavo con mia figlia, vivevano l'inconsapevolezza e quindi anestetizzavo il dolore, la frustrazione derivante da non vivere una vita allenata nei bisogni e nelle passioni. Per esempio, usando la vista, mi guardavo sei DVD nell'arco di un weekend, distrazione, distrarsi dal dolore, questo è un esempio. Oppure diamo la colpa a noi stessi o agli altri, questo ci porta a questo effetto che prima ho etichettato con c'è il danno di una vita frustrata e c'è la beffa di comportamenti che ci remano contro, remano contro la nostra qualità emotiva, la nostra qualità emozionale. E questo, tra l'altro, porta in gioco un'altra legge che dice che energie negative difficilmente portano ai risultati positivi. E quindi c'è un insieme di fattori che entrano in gioco con questo circolo vizioso e il tutto parte da non aver chiare i propri bisogni, i loro passioni. Tra l'altro, se non ho chiari i miei bisogni, se non ho chiari i miei valori, come faccio a decidere? Come faccio a decidere è recidere, vuol dire dire no a qualcosa per dire sì a qualcos'altro. E qui che entra in gioco la paura produttiva. La paura produttiva è, cavoli, ma qui se decido al buio, senza aver chiare i miei bisogni, le passioni, se non aggancio la decisione ad un valore, a qualcosa di importante, i valori si seguono anche, soprattutto anche per prendere buone decisioni, corri il rischio di fare un pastrocchio. Quindi quella è una paura adattiva, produttiva. Procrastinazione, rinviare cambiamenti, rinviare investimenti importanti, fino a quando non si ha chiarezza su questi bisogni, le passioni, è una procrastinazione produttiva, è una procrastinazione adattiva. Perché corriamo dei rischi, se decidiamo senza aver chiari i nostri bisogni, i valori e i passioni, e quindi prenderci del tempo. Quindi procrastinare ha senso. Viceversa, abbiamo fatto un accenno rapido al sottoscritto, c'è stato un momento in cui io ho raggiunto finalmente la chiarezza di questi bisogni, le passioni, e però il marmocchio interiore, che noi chiamiamo il ghe infantile, che è una parte della mente egoica, che vede la realtà come un bambino piccolo, ha paura di sbagliare, ha paura di quello che pensano gli altri, ha paura di fallire. E quindi cavalcando queste paure, arriva la procrastinazione. Ora questa procrastinazione, questo rinviare, rinviare questo non passare all'azione, diventa nevrotico, diventa improduttivo, ci rema contro, e va a minare, va a ostacolare la nostra realizzazione personale e professionale. Per questo dobbiamo fare una distinzione. Una volta che ho queste distinzioni, entri in gioco la terza distinzione. La terza distinzione, dicevo prima, è tra decisioni e cambiamenti piccoli, e decisioni e cambiamenti grandi. Quando non ho chiari i miei bisogni, i miei valori e passioni, dicevo prima, la paura è ok, la procrastinazione è ok, ma come facciamo a non cadere nella paralisi, nel circolo vizioso dove non ho chiari i miei bisogni, non agisco, ma se non agisci come fai a capire i tuoi bisogni e le passioni? E allora qui distinguiamo tra piccole e grandi decisioni, piccoli e grandi cambiamenti, e utilizziamo uno dei tanti metodi con cui si possono scoprire i nostri bisogni e le passioni, che è per prove ed errori, ma facciamo delle prove di piccoli cambiamenti, di piccole decisioni, e questo ci aiuta a aggiustare pian piano, a mettere a fuoco che cos'è importante per noi, quindi i nostri valori, che cosa ci dà nutrimento quando soddisfatto, quindi i nostri bisogni. E questo è un metodo per mettere a fuoco i propri bisogni, i loro passioni. Un altro è seguire il percorso cambiamarcia e tenere d'occhio quando riapriremo le candidature. E in ogni caso, la conclusione di questo video è per un grande in bocca al lupo, per coltivare la vostra crescita, allenare il vostro benessere e raccogliere prosperità, che riacchiude bene o male quello che abbiamo detto prima, perché coltivare la propria crescita ha a che fare anche con guardarsi dentro e comprendere in maniera chiara queste spinte che abbiamo, queste forze che chiamate bisogni, valori e passione. Allenare il benessere vuol dire proprio cominciare a prenderci il tempo per dare soddisfazione a questi bisogni, a queste forze vitali e raccogliere prosperità significa raccogliere quella gioia, quella soddisfazione, quella felicità, in inglese quel fulfillment, quel senso di realizzazione di se stessi, che porta poi dei riverberi sia a livello emozionale, dopo questo lavoro le emozioni virano più spesso in direzione della gioia, della contentezza, della soddisfazione, prosperità relazionale, anche le relazioni prosperano, perché siamo meno incagniti, siamo meno insoddisfatti, siamo meno lamentosi, siamo meno anestetizzati, che sono quegli effetti che raccontavo prima, e anche prosperità economica, perché quella non guastano, noi non siamo, noi del progetto coltivare la crescita, quando sei felici i soldi non contano, non contano anche i soldi, ma i soldi acquisiscono un altro sapore, e ve lo dice il sottoscritto che i soldi ne ha fatti tanti in vita sua, poi li dava in gestione a leggo infantile, e quindi ne bruciava altrettanti, perché? Perché eri insoddisfatto, quindi utilizzavi i soldi come meccanismo compensatorio, quando invece c'è questa quadra dei bisogni e delle passioni, anche i soldi ce li godiamo di più, e non sono più, se vuoi, un fine, ma sono un mezzo per aumentare, mettere il turbo alla prosperità relazionale, e la prosperità emotiva. E con questo termino questa seconda live, chiedo come sempre l'obolo a chi desidera, l'obolo è scrivere un commento sotto il video, per indicare il concetto, la parola che vi ha colpito di più. In ogni caso, come dicevo, in bocca al lupo per la vostra crescita, benessere e prosperità, e alla prossima!